buongiorno a tutti da valerio rossi di vr finanza smart education school oggi 12 aprile ore 9 16 andiamo a vedere immediatamente uno sguardo sul mercato delle cripto valute in particolare andiamo a vedere soprattutto quella tipologia di cripto valute molto conosciute tipo ovviamente ecco qua scusate bitcoin bitcoin che ieri ovviamente ha fatto un massimo annuale si è spinto fino a 30 mila e oltre 30.500 dollari di quotazione e anche per quanto riguarda la quotazione in euro è stata veramente una giornata ieri è molto molto interessante ovviamente a questo punto ci si domanda se la cosa potrà durare e ci sono ovviamente opinioni contrastanti tutte meritevole di attenzione sicuramente è un periodo di transizione ma la previsione da parte di molti analisti è che questo sia semplicemente il primo passo di una di un bull market cioè di un mercato rialzista non solo su bitcoin ma sul mondo delle cripto in generale ma ovviamente bitcoin rimane sempre al centro dell'attenzione andiamo a vedere più nello specifico quello che i valori che esprime questo mercato per comprendere ancora più profondamente quello che è in atto in questo momento e soprattutto in prospettiva finora finora abbiamo visto negli anni passati dal 2017 al 2020 al 2021 con dei del di up and down con dei rialzi e ribassi molto pronunciati ha raggiunto ovviamente negli anni passati un massimo bitcoin a 69 mila oltre 69 mila dollari adesso ovviamente siamo a meno della metà se vogliamo guardarlo da questo punto di vista però si sa questi sono mercati volatili che essendo l'incontro tra domanda l'offerta soprattutto condizionate da quelle da quei fondi per quelle mani importanti dal punto di vista finanziario che possono condizionare il mercato e che hanno condizionato anche il mercato le le ultime vicissitudini riguardanti ftx riguardando terra luna e ci sono state di diverse veramente problematiche legate a così all'affidabilità o quantomeno al pensiero che questo mercato possa dare affidamento e prospettiva di crescita nei prossimi anni vediamo subito i numeri più importanti non potete vedere ci sono 23.299 gritto quotate su 610 exchange operativi per una capitalizzazione di oltre 1.237 miliardi di dollari la dominance di bitcoin rispetto a ieri addirittura aumentata a 47.1 quindi fate conto che quasi la metà del mercato delle cripto è rappresentata da bitcoin 18.6 ethereum piuttosto stabile ma vediamo nel dettaglio oggi che è una giornata ovviamente riflessiva da questo punto di vista vediamo un po di fare un refresh per quanto riguarda il le quotazioni usate 29.989 di nuovo a ridosso 30.000 guardate proprio in questo momento tondi tondi con un rialzo marginale di un 0.30 nell'ultima ora e di un ribasso frazionale da 0.39 un 5.27 dal punto di vista settimanale mentre vedete che ethereum sta sopprendo un po' per quanto riguarda anche gli ultimi aggiornamenti della della piattaforma riferita appunto all'aggiornamento di ethereum binance è abbastanza stabile come vedete è un rialzo frazionale anche sia dal punto di vista dell'ultima ora che nell'ultima settimana e mentre tutti i segni più negativi sono riguardo ripple dogecoin che chiaramente aveva fatto una speculazione sempre sull'onda dell'utilizzo del simbolo anche di twitter da parte di Elon Musk ma siamo abituati a questo poligon solana che invece fa veramente un balzo importante anche perché ha effettivamente un business dietro decisamente interessante polkadot negativo qui vediamo alternarsi di segni meno e segni più sia dal punto di vista dell'intraday del 24 ore ma soprattutto del settimanale che è il diciamo il dato che merita una maggiore attenzione ecco qua vediamo altri tipi di criptovalute meno conosciute scorriamo un po' in fondo vedere se c'è qualche qualche dato che può così catturare la nostra attenzione il nostro interesse e anche la nostra curiosità ecco vedete questi qui sono ovviamente delle cripto di minore importanza non c'è niente di particolare rilevante consideriamo sempre che ovviamente le percentuali che si esprime su questo mercato sono decisamente diverse rispetto magari al mercato azionario tradizionale anche se quello ovviamente con qualche eccezione ha dimostrato anche delle percentuali estremamente interessanti ma mai ovviamente come bitcoin ecco siamo arrivati alla fine volevo ricordare dal punto di vista storico quello che è stato la nascita nell'ottobre del 2008 di bitcoin che è stato quotato la prima volta a Tokyo il 3 gennaio del 2009 a 10 centesimi adesso comunque a 30 mila è chiaro che erano altre circostanze altri contesti economiche di conoscenza di quello che era bitcoin quindi era verosimilmente quando è stata quotata era più una scommessa piuttosto che un vero investimento alternativo una diversificazione che vogliamo dire vediamo un po' tutte una serie di cripto che è nel mio portafoglio ideale secondo ovviamente il mio modesto parere come vedete bitcoin è di nuovo a ridosso di 30 mila dopo aver giustamente avuto una presa di beneficio da parte di chi l'aveva comprati anche a meno BNB Binance Coin a 319 Axie Infinity a 843 Internet Computer a 5.225 Phil Shiba abbastanza avuto un arretramento pesante dopo aver cercato di dare uno spunto anche da questo punto di vista Aptos che è la new entry che si attesta sempre dai 11 ai 12 dollari abbastanza stabile GMAX Alpine Alpine che ho fatto proprio un video apposta nonostante tutto siamo comunque di nuovo a ridosso dei 4 dollari considerate negli ultimi giorni l'ultima settimana ha avuto degli spunti assolutamente interessanti addirittura l'otto di aprile ha fatto oltre 100% in una giornata come estensione massima naturalmente EOS che la ritengo veramente una crypto interessante un business interessante nel medio e lungo periodo APE per chi vuole speculare un po' di più e soprattutto Alice che ha una storia che ripeto è estremamente interessante nel primo giorno di quotazione dal minimo massimo ho fatto addirittura un più 50.000 una cosa inverosimile chiaramente cose per grandi speculatori quindi certamente non di tipo conservativo come evidentemente può essere Bitcoin che vedete ancora si attesta lì cerca ovviamente di sfondare nuovamente 30.000 e lo vedremo magari sicuramente a prezzi superiori forse già questo fine settimana ma sicuramente la prossima e per finire Ethereum che dopo aver fatto chiaramente il suo rialzo adesso ha ritracciato quasi completamente quello che era quella adesso sta tentando nuovamente di prendere uno spunto per cercare di cercare nuovi massimi soprattutto quello che è l'attacco detto dai maggiori analisti intorno ai 30.000 cosa dire rimane sempre interessante salvare questo mercato con la dovuta prudenza la mia è semplicemente un'analisi di carattere tecnica fondamentale non vuole essere assolutamente una sollecitazione a investire in questa o nell'altra che ricade nella propria responsabilità personale e nella propria decisione con i consulenti con tutti i promotori con tutti i soggetti autorizzati dalle leggi sia italiane che europee piuttosto che mondiali vi auguro una buonissima giornata se ci sono rilevanti notizie o cambiamenti importanti sarà mia cura aggiornarvi prontamente buona giornata a tutti da Valerio Rossi di Via Raffinanza Smart Education School a presto